Un'esperienza totale per vivere in maniera diversa le opere di Van Gogh a Lecce a partire dal 16 marzo ci sarà la possibilità di fluire dell'arte in modo innovativo attraverso visori VR a 360 gradi, un modo per veicolare dipinti e opere diverso rispetto alla modalità classica con cui sarà possibile toccare con mano i dipinti. Una manifestazione che si terrà al Convento degli Agostiniani, un evento fortemente voluto dal Comune di Lecce, dalla provincia e dall'Università del Salento che ha messo a disposizione gli spazi. Si attende un grande successo per una mostra che ha girato tutto il mondo con le sue attività multimediali suddivisa per aree tra cui una didattica dove si potrà provare a ripetere le opere dell'artista con la sua essenza che ha segnato un passaggio importante nella storia dell'arte. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto finalmente l'obiettivo che ci avevamo prefissato un po' di tempo fa, finalmente riusciamo a portare una mostra internazionale che si sta riscuotendo in tutto il mondo enorme successo e quindi per la prima volta arriva a Lecce questa mostra che ci potrà veramente deliziare completamente tutti quanti i sensi. Quali sono le date, quando si può cedere le informazioni per chi ha voglia di visitarla? Durerà fino al 16 di giugno e aperta tutti i giorni dalle 9 la mattina alle 20 di sera, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica dalle 9 del mattino alle 22 di sera.